Buonasera, io sono una volontaria della Fondazione Teleton, Mancini Olivia, e sono qui questa sera per portare testimonianza sia della Fondazione Teleton come volontaria, ma soprattutto ho avuto l'onore di ricevere da questo centro, il Poliambulatorio Apollodoro, una richiesta di collaborazione come partner insieme alla Fondazione Teleton. Siamo lieti di far parte, di diventare partner di questo Poliambulatorio che abbiamo saputo ha una notevole importanza sia come centro fisioterapico come Poliambulatorio in generale, molto conosciuto sul territorio. Si lavora insieme per la salute, il Poliambulatorio lavora per seguire, il fine ultimo è quello di dare salute ai propri pazienti e in fondo la Fondazione Teleton si occupa di sostenere la ricerca per le malattie genetiche rare, quindi abbiamo lo stesso scopo al fine di dare all'individuo, all'essere umano una qualità di vita e di poter curare eventuali malattie che si presentano nel corso della sua vita.